E' conosciuto come il volo dell'angelo, tecnicamente si chiama Zip Line, una teleferica che permette di volare sospesi nel vuoto agganciati a un cavo di acciaio. A breve anche in Molise verrà realizzato l'impianto grazie a un progetto del comune di Castel Mauro, capofila di un gruppo di altri dieci comuni, che prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale che taglierà trasversalmente il Molise dal Biferno al Trigno. L'iniziativa fa parte dei progetti finanziati dal CIS, il contratto istituzionale di sviluppo e il sindaco di Castel Mauro, Flavio Boccardo, ha fatto sapere come solo dopo un giorno dall'invio della richiesta, con grande efficienza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha immediatamente autorizzato il trasferimento di 740 mila euro al comune, somma che rappresenta un acconto pari al 20% dei 3 milioni e 700 mila euro complessivi previsti per il progetto. Grazie all'impegno mantenuto dal Presidente Conte con questa particolare iniziativa messa in campo anche per il Molise ha commentato Boccardo, territori come il nostro, dimenticati ormai da troppo tempo, possono iniziare a guardare al futuro con maggiore speranza. La zipline partirà da un'altezza di oltre 1000 metri, precisamente dalla faggeta di Montemauro, in prossimità di uno dei migliori osservatori astronomici d'Italia, fino a scendere a 630 metri. Durante il volo sarà possibile ammirare i Campitello Matese, la Maiella, il Gran Sasso e tutta la costa adriatica di Abruzzo, Molise e Puglia. La pista ciclabile e pedonale invece collegherà il fiume Biferno e il fiume Trinio, in un percorso lungo 40 chilometri che attraverserà Monte Cilfone, Guardia Alfiera, Palata, Acquaviva con le Croce, Rocca Vivara, Tavenna, Mafalda, San Felice del Molise, Montemitro e Montefalcone del Sannio, con la possibilità di visitare siti naturalistici, culturali e storici. Attualmente sono 66 progetti finanziati grazie a un investimento complessivo di 220 milioni di euro.